buongiorno ragazzi come potete vedere aspettate vi faccio vedere abbiamo la neve signori e signori ha nevicato tutto ieri e anche l'altro ieri oggi è venerdì 6 gennaio oggi è venerdì aspetta si venerdì e niente ora sto andando a buttare l'immondizia che qui nel condominio hanno il casottino che ora vi faccio vedere ecco qua il casottino porta immondizia molto interessante questo si che fa le big visual su youtube e niente ora poi dobbiamo andare all'ikea che si trova qui esattamente vicino a vasilea dobbiamo fare un bel po' di strada e prima ho detto vi faccio un video dalla location più bella del mondo e niente ragazzi io vi saluto e vi ricordo che ora poi porterò avanti la serie di punch club visto che vi è piaciuta come avete potuto leggere su telegram ho scaricato cioè ho acquistato la versione con il dlc gratuito The Dark Fist e quindi avremo 3 ore di gioco in più fatemi sapere nei commenti di questo video se volete episodi più lunghi di 14-15 minuti anche se non credo che poi diventa un po' noioso e niente ragazzi vi auguro una buona epifania e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao